Lo sdegno per le condizioni dei Marocchi rischierebbero fino a dieci anni di carcere è arrivata fino a Sanremo. Ieri, in apertura del festival, la conferenza stampa con Vanni Ardito e Paola Moschetti, compagni dei militari. Con il richiamo dell'ambasciatore c'è la possibilità di mostrare all'India che adesso basta con i rinvii, siamo stanchi. I due militari devono ritornare in Italia. A dare voce ai due fucilieri, anche Raffaella Carrà, che prima di esibirsi sul palco insieme a Luciana Letizietto ha lanciato un appello. Mi aggiungo a tutto il popolo italiano. Voglio rivolgermi al governo indiano perché faccio giudicare i due Marocchi in Italia. Il ritorno a casa, infatti, è ancora lontano per Massimiliano Girone e Salvatore Latorre, che sono trattenuti in India da due anni con l'accusa di aver ucciso due pescatori durante una missione internazionale. La Corte Suprema di New Delhi ha rinviato l'udienza per la 26esima volta. Dalla Farnesina risponde il ministro degli esteri Emma Bonino, che parla di una manifesta in capacità indiana di gestire la vicenda. Richiamati a Roma per consultazioni, intanto, l'ambasciatore italiano a New Delhi, Daniele Mancini, e l'inviato del governo Staffan de Mistura. Convocato dalla Bonino, anche l'ambasciatore indiano a Roma.